Cosa rischiano i proprietari dei Rottweiler che hanno inferto delle lesioni mortali al giovane 39 anni? Rischiano un procedimento menale per omicidio colposo perché secondo quello che è previsto dalla nostra legge e dall'interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Castazione il proprietario del cane deve sempre adottare cautele idonee ad evitare il pericolo che il cane possa salire terzi. In questo caso i proprietari del cane non hanno adottato tali opportune cautele e dunque la responsabilità dell'evento morte può essere loro ricondotta ed ovviamente oltre alla condanna penale rischiano anche di dover risarcire i parenti della povera vittima.